Abbiamo il piacere di ospitare ai microfoni di Radio Roma Capitale Alessandra Parisi, dietista. Ciao Alessandra e benvenuta qui in radio. Buongiorno, grazie a voi. Grazie a te Alessandra. Ascolta, parlami del tuo lavoro. Allora, io sono una dietista, mi occupo di alimentazione sia in senso preventivo che in senso curativo, per cui sia se si tratti di patologie correlate appunto all'alimentazione, sia soprattutto che si tratti di educazione alimentare, quindi appunto per prevenire tutte quelle patologie che sono correlate ad una scorretta alimentazione. Inoltre effetto anche educazione alimentare, soprattutto per i bambini, proprio per permettergli di conoscere al meglio gli alimenti e farne un buon uso da adulti. Benissimo Alessandra, e come facciamo a metterci in contatto con te per un aiuto oppure una consulenza? Io ricevo il suo appuntamento in due studi, uno in sito in Roma, in via Giacomo Trevis 88, un altro in Fiumicino e in via Anton Luigi Pietro Grande 1. Effetto anche consulenze online e visite a domicilio nel quadrante di Roma Sud Ovest. Potete contattarmi al numero 349 57 91 599 oppure tramite le mie pagine su Facebook Dieta, dimagrimento ideale e terapia alimentare, su Instagram dimagrimento ideale oppure per email dottoressa parisi chiocciolagmail.com Grazie mille ad Alessandra Parisi A boi!